Venne raggiunto e ucciso nel cortile di un asilo a San Giuliano Milanese dopo 31 anni dall'omicidio di Cristoforo Verderame. Si è aperta l'udienza preliminare. Le sorelle della vittima sono state ammesse come parti civili. I legali che le assistono gli avvocati Carmelo Tuccio e Giuseppe Simonetti hanno ottenuto l'autorizzazione dalla GUP milanese a rispondere di quell'esecuzione di mafia. Sono il boss Antonio Rinsivillo e l'attuale collaboratore di giustizia niscemese Antonino Pitrolo. Gli investigatori lombardi hanno messo il punto sulla ricostruzione di un call case in realtà già finito al centro delle indagini avviate su una serie di omicidi che a cavallo tra anni 80 e 90 esportarono la guerra di mafia da Gela all'Interrand milanese. Nell'ottobre del 1988 sarebbe stato Pitrolo come lui stesso ha ammesso a partecipare all'agguato insieme ad un complice ancora non identificato. L'ordine l'avrebbe dato Rinsivillo, capo indiscusso di Cosa Nostra Gelese, adesso ristretto sotto regime di carcere duro. Verderame doveva essere ammazzato anche in maniera plateale per inviare chiari segnali ai rivali stiddari. Le famiglie gelesi si contendevano gli affari illeciti anche in Lombardia. Pare che Verderame fosse a sua volta armato ma non riuscì a sfuggire ai proiettili dei killer. La difesa di Rinsivillo, sostenuta dagli avvocati Flavio Sinatra e dell'Iana a Zecca, non ha optato per riti alternativi. Il legale che rappresenta Pitrolo invece ha chiesto e ottenuto l'ammissione al giudizio abbreviato e difeso dall'avvocato Maria Assunta Biondi. In aula si tornerà a fine mese. Gli investigatori sono riusciti a dare un volto ai presunti compevoli anche sulla scorta di quanto raccontato da Emanuele Tuccio, collaboratore di giustizia già condannato per il duplice omicidio di Simone Di Stefano e Claudio Casciana.